Aion 4.5 Dov'è il pubblico di Luca? Fatemelo sentire l'applauso! ...cosbarsa di tragedie e morte Gli Asmodian e gli Elios vivevano in armonia Considerandosi l'uno il fratello dell'altro Ora sono entrambi pieni di odio E si incontrano a spade sguainate invece che abbracciare l'Eli Abbandono i panni di Piero Angela Per mostrarvi le ragioni in base alle quali Il nostro popolo, i Elios È senza ombra di dubbio la creazione più bella e impareggiabile del nostro grande dio Aion In primo luogo non esistono esseri più belli di noi Siamo eleganti E abbiamo abiti e armature che nessun altro popolo è mai riuscito ad eguagliare I am so fab Check out, I'm blonde I'm skinny I'm rich And I'm a little bit of a bitch Conteglio, per favore Vorrei esporvi il nostro piano per estirpare dalla faccia della terra Quei maledetti asbotiani A dire la verità è un piano un po' vecchiotto L'hanno già usato Beh, in ogni caso abbiamo altri mezzi per distruggerli Sappiamo padroneggiare armi antiche e potenti Che da sempre hanno retto le sorti del mondo Idiota, io mi riferivo alla magia Forse faremo meglio a darci un'impica Grazie Grazie amico Cinzia Fatevi vedere dalla storia Oh, e ci prepariamo subito Allora